Mesdames e messieurs, bonjour. Questo Rosti vi permette di cucinare senza condimento, quindi più genuino, sano e saporito, come la cucina alla braccia in campagna, bistecche, pollo, pesce, pizze, eccetera, senza fumo né odori. Rosti all'interno è autopulente e all'esterno di facile pulizia. Rosti Moulinex, la Lide 59800, IVA compresa. Rosti Moulinex